Carissimi e carissime, eccoci di nuovo al nostro appuntamento quindicinale in dialogo con l'Europa. Vi voglio raccontare in cinque minuti ciò che è successo al Parlamento europeo. Nell'ultima sessione di Strasburgo ci sono state alcune votazioni molto importanti. La prima riguarda i cosiddetti profili nutrizionali o più semplicemente l'etichettatura dei prodotti alimentari. Siamo infatti riusciti a bocciare con un voto del Parlamento il progetto che veniva sponsorizzato soprattutto dagli inglesi di classificare rigidamente i prodotti alimentari in base al loro contenuto di grassi e carboidrati, una sorta di vero e proprio semaforo sugli alimenti che avrebbe portato al paradosso per cui bevande come esempio la Coca-Cola Light o la Red Bull avrebbero avuto il semaforo verde, mentre il parmigiano reggiano e il prosciutto di Parma, che noi ben conosciamo, avrebbero avuto un bel semaforo rosso con una chiara ed evidente disinformazione verso il consumatore. Quello che ci serve è che dobbiamo fare e promuovere invece uno stile di vita sano e puntare sulla valorizzazione di una dieta equilibrata e completa. Da secoli la dieta mediterranea è sinonimo di qualità da tutelare a livello europeo. Non sarà un caso che noi italiani siamo nel mondo i secondi come durata della vita media. Inoltre la nostra regione, l'Emilia-Romagna, è la prima in Europa per i prodotti di denominazione DOP e IGP, ben 43, che sarebbero stati gravemente danneggiati sul mercato internazionale da questa nuova norma. L'altro importante tema del quale abbiamo discusso è quello dell'immigrazione, con la votazione del rapporto della collega Chienge, che prevede finalmente un approccio globale ed intelligente al fenomeno dell'immigrazione. Una visione davvero europea e non una gestione lasciata da ogni singolo Stato membro. È la strada giusta per non subire ma governare quella che non è un'emergenza transitoria, ma è evidente a tutti ormai una realtà destinata a durare nel tempo. La novità fondamentale è la proposta del superamento del regolamento di Dublino, che ha fallito la prova dei fatti, penalizzando in particolare i paesi frontalieri del Sud Europa, come l'Italia e la Grecia. Proponiamo che la domanda d'asilo non sia più rivolta allo Stato di prima accoglienza, ma all'Unione Europea e gestita in maniera solidaria da tutti i 28 Stati. Su questo punto ho sostenuto personalmente e con forza la proposta di rendere gli hotspot, i centri di prima accoglienza e di identificazione dei migranti, sostanzialmente localizzati ad ora in Grecia e in Italia, territori sovranazionali e non più parte dello Stato membro nel quale si trovano, sono insediati. Si tratta di dare a questi centri carattere di extraterritorialità, come avviene per le ambassiate. Serve poi una gestione comune delle frontiere esterne, dobbiamo sapere chi entra e chi esce dai confini del nostro continente, dobbiamo farlo con una forza, un sistema di intelligence e di controllo europeo fondamentale, essenziale anche per la lotta al terrorismo, come gli eventi degli ultimi mesi ci hanno dimostrato. Il terrorismo è un problema globale che richiede risposte che vanno ben oltre i confini tradizionali dei singoli Stati. Non serve, ripeto, non serve alzare muri dentro i confini interni. Ripristionare poi i controlli alle frontiere rappresenta un ritorno al passato che ci porta solo danni di miliardi di euro alle nostre economie. Vanno evitati i viaggi della speranza che ogni anno ci consegnano un tributo altissimo di morti nel Mediterraneo e fra i deserti del Nord Africa. Un'attenzione particolare destinata ai minori, un tema che mi sta molto a cuore. Gli ultimi dati pubblicati dall'Agenzia dell'ONU per i rifugiati ci dicono che a febbraio 2006 il 22% di arrivi in Grecia e via male è rappresentato da donne e ben oltre il 40% da bambini. Sono oltre 10.000 i bambini non accompagnati, i minori non accompagnati, scomparsi dopo essere giunti e registrati in Europa. Fondamentale infine è portare avanti una strategia di cooperazione con i paesi terzi come proposto dal governo italiano e l'istituzione europea. Dobbiamo creare un vero e proprio patto sia con i paesi di origine che di transito dei migranti economici. In cambio di aiuti e investimenti europei si chiedono controllo dei confini, una gestione coordinata dei flussi e del sistema dei rimpatti. Dobbiamo seguire l'esempio illuminato di Papa Francesco, testimone credibile del nostro tempo, che nell'ultimo viaggio a Lesbo ha invitato, richiamato l'Europa a recuperare le sue radici nel segno della solidarietà e della responsabilità. Infine, per chiudere, vi anticipo una novità fresca di stampa, una guida completa e di facile utilizzo sui finanziamenti europei per gli enti locali. Ma di questo parleremo con una presentazione dettagliata nel prossimo appuntamento di In Dialogo con l'Europa. Come sempre potete seguirmi sul mio sito internet e il mio lavoro nelle pagine Facebook e Twitter. Un caro saluto al prossimo appuntamento. Un caro saluto al prossimo appuntamento.